Ce l'avevi accennato prima che la canzone di Suburra non l'avevi scritta per Suburra, bensì per un film... Tutti i miei più grandi successi hanno una genesi tortuosa. Quelli che faccio così al volo che dicono questo funziona, poi invece non funziona. Sette vizi capitale è emblematico da questo punto di vista, perché nel 2014 mi chiamo alla Warner dicendo abbiamo un film dove abbiamo pensato a te per fare la canzone, il tema. Se vieni in ufficio ne parliamo, avevo ancora la sede a Roma. Vado lì e dice guarda ci sarà il nuovo film, il grande ritorno di Thomas Millian. Dico no, che mi è stato a dire davvero. Perché Thomas l'avevo sentito solo una volta al telefono perché io lo citavo sempre, tutto quanto mi aveva ringraziato per questa cosa e mi aveva detto io prima o poi torno in Italia che lui era molto legato per fare un film dove torno un po' a fare il monnezza, ma il monnezza degli esordi che era più poliziesco e meno commedia. E quindi prevedeva il ritorno di Thomas Millian. Antagonista Franco Califano come attore? Figura femminile Eva Enger? Poi c'era anche Francesco Venditti, Pidio Antonello. Insomma è un po' di caratteristiche. E io dico vabbè raga ma subito, fammolo dei corsi. Questo che anno era questo? Il 2014. Vedo anche un po' di girato che avevamo già fatto, pellicola, bello, figo il film. Allora mi dicono le musiche le sta facendo Massimo Filippini e Francesco Santalucia che è il pianista, compositore. Vabbè non li conosco però dai ci conosciamo e da cosa nasce cosa. Vado con lo scooter a casa di Francesco Santalucia che poi abitava sotto al Vaticano, un piano a terra là, quindi era già abbastanza... Non era su burra però in qualche modo poi si legherà. Comincio a diluviare che anche là non è su burra ma si lega a quella situazione un po' così evocativa, scura. No, lo conosco, dico Francesco, però era un ragazzo insomma giovane, ha fatto il conservatorio ma ha anche lavorato con alcune cose con Caparezza perché lui è pugliese. Dico Francesco non te conosco, ora dopo cinque minuti sto preso bene. Io ho un'idea di testo che ho scritto. Te che metodo di... cioè come lavori te? Perché io vengo dall'hip hop, arrivano tutti con le basi, poi mi devo adattare alla base oppure portare un provino di una base. Mi fa, no, no, io lavoro proprio al pianoforte, dico, però sai una che canta, cioè canticchio. Mi fa, non ti preoccupare, fammi sentire. Allora comincio a ripagli il pezzo e lui comincia a musicarlo sotto, no? Quindi trova gli accordi, poi dice, beh, ci spostiamo qua, qua possiamo aprire. Insomma comincio a costruire la canzone e io a elaborare il testo. Facciamo il provino di questa canzone che si chiamava Roma Cruda. Come il film, Roma Cruda, perché doveva finire il film con Thomas Miller e Califano. A un certo punto, beh, sparisce la Warner, sparisce tutto, noi abbiamo questo provino in mano e basta. Puntata tipo delle Iene, film sequestrato, perché il produttore del film, che era allora il compagno, marito di Eva Enger, non aveva pagato alcune maestranze, cioè però insomma numero cospicuo, e quindi questi avevano fatto ricorso, appello con i sindacati, tutto quanto avevano ottenuto il sequestro del film. Quindi il film esiste ma nessuno lo vedrà mai. Passano altri mesi con questa delusione cociente, perché poi il testo ci tenevo. L'avevo scritto di notte, ero andato a Piazza Navona a beccare un po' di amici tipo Giorgio di Corvelino e compagnia. Al bar della pace, al bar del figo, ping pong, gin tonic qua, bietretta là, Roma Libre là, situazione. Vabbè, si fanno tipo situazione quattro e mezza, torno verso il motorino così, con tutti i sanpietrini traslucidi di Piazza Navona, le chiese, tutto quanto, nasce sto pezzo un po' barocco, un po' caravaggio, questi chiaroscuri che sette vizi capitati. A me non, insomma, il testo, cioè che è Roma cruda ancora. Praticamente passano un po' di mesi, richiamo alla Warner, dice ragazzi, abbiamo trovato un piano B per il brano. Ah vabbè, allora ci vediamo in ufficio. Allora, abbiamo questo film, comunque interessante, con Borghi come protagonista. Borghi, però non Borghi esploso, Borghi sei mesi prima che esplodesse. Cioè era già bravissimo, però sei mesi prima della fama totale. E si chiama... Criminale. Dico, scusa, come si chiama? Roma Criminale. Ah, dico, non ho capito la parola prima. È Roma Criminale. Dico, ah, Romanzo Criminale, fanno il 2. No, Roma Criminale. Dico, ah, cioè, non Romanzo, Roma. Dico, ma questo è bimubi totale. Cioè, Roma Criminale, dopo, cinque anni dopo Romanzo Criminale, Zeta Movie. No, ma non è male, cioè, il casting è interessante, certo, non è perfetto, ma d'altronde il brano sta lì, così è un po' sprecato. Lo mettiamo lì, poi vediamo. Andiamo a vedere sto film che lo davano al Cineplex di Ostia. E al Cineplex di Ostia. Cioè, nel senso, tipo, due sale a Ostia a un weekend. Questa è la proiezione del film. Di Roma Criminale? Di Roma Criminale, sì. Io ho anche il DVD, se vuoi te lo presto. Ma qui non era Suburra. Io pensavo fosse Suburra, poi hanno cambiato il nome perché erano dubbi. No, no, era proprio... Sai quelle cose tipo bimubi, anni 70? Non so, fanno Rambo e in Italia fanno Ringo. Sì, sì, sì. Che è più o meno vestito uguale. Cioè, Fuga da New York e c'era un altro simile, non mi ricordo. Fuga da New York. Una cosa così. E praticamente... Vabbè, vediamo sto film. E io dico così, dico, vabbè, veramente sta canzone è sprecata. E quindi mi do del culo pure là. Dico, no, sta canzone la voglio mettere nell'album mio che uscirà nel 2015. Che è Nemici. Tipo Amici, mi ha scritto Nemici. E era un bell'album. Cioè, dentro c'era comunque Africa Bambata, Captain Sensible che avevo rifatto Watt. Cioè, era un pezzo con Brusco, eh. Dico, la voglio rifarci. Metto anche un ospite che avevo gli amici del muro del canto. La facciamo con una chiave figa. Cioè, il rap col folk. Che, almeno quello romano, non l'ha mai unito nessuno. Poi il folk loro non è quello... Ma è bello scuro, ci sta bene. Quindi viene il muro studio. La rincitiamo col muro che suona. Più la voce di Daniele. Perché io la duro quella voce da sempre. Quindi, no, Daniele, me levo io. Cioè, faccio la seconda voce. Ma vai te come voce principale. E poi Sandro dice, ah, ma io posso aggiungere una poesia. Ho fatto, ah, da paura. Sì, sì, così. Cioè, pure la poesia in un brano. Che comunque è una cosa che... Insomma, è abbastanza... Rara. Che si faccia. E quindi nasce questa canzone per l'album mio. Quindi, secondo passaggio. Non è Roma cruda. Per Roma... Il prestigioso Roma criminale. Anzi, quarto passaggio. Perché il primo passaggio è film con Thomas Miller e Califano. No. Poi Roma criminale e B-movie con canzone. Ni. Finalmente dico, ah, beh, l'album è venuta pure figa, la nuova versione, la mettiamo. La canzone piace. Cioè, tipo, vado dalla Tandini, ospite, e dico, ammazza che bella sta canzone. Vado a DJ che non la mette in programmazione, però, dico, ammazza che bella sta canzone. Tutti dicono che bella sta canzone, ma non è che esplode. A un certo punto, cammino di mattina per il quartiere africano, cioè ancora mi ricordo la scena, stavo alla serie del diavolo, mi chiama una persona che lavora per Grande Onda e mi dice, Thomas, guarda, hanno scritto una mail, è urgente, che vorrebbero usare Sette Vizi Capitale per una puntata di Subburra. Dico, vabbè, buono, insomma. Comunque è sempre la prima serie Netflix, va bene. Poi passano, tipo, due settimane e, Thomas, hanno riscritto, la voglio usare per due puntate. Eh, buono. Poi riscrivono, guarda, la voglio usare proprio come sigla. Buonissimo, ottimo. Vabbè, smisto le varie cose tecnico-burocratiche, legali, avvocate e quant'altro, chiudiamo l'accordo. E finalmente la canzone ha una quarta vita, perché a quel punto, grazie anche chiaramente alla visibilità della prima serie Netflix italiana, quindi viene smarmellata in tutto il mondo, comincio a ricevere messaggi in turco, in russo, in latinoamerica, in botto, in sudamerica, proprio, questa cosa di Madonna e criminali, fede, sì, sì, proprio, c'è l'eccitazione massima. Tre preghiere e 32 omicidi. Bellissimo. E quindi da là poi la canzone, insomma, il video e tutto quanto. Poi il video anche era antecedente, perché lo fece al mamma prima della serie. Poi, per fortuna, in qualche modo, tra il mamma e la sua storia, il fatto che è a Roma, il video che è a scuro e tutto quanto, un po' si lega come vocazione, come colori. Però, in realtà, è antecedente.